Per Cazzelsi che a mia memoria è il primo calciatore greco a segnare con la maglia della naserina. Ciao a tutti, oggi la squadra abbiamo fatto una bella partita, con questo atteggiamento possiamo andare avanti, siamo tutti positivi per giocare bene, tutti concentrati, abbiamo fatto una bella partita così abbiamo preso i tre punti. Una buona partita da parte tua fino a quando le gambe giravano? Sì, però il norma... no, scusatemi. C'è un po' di dire in inglese? No, no, no. Questo che è importante è che non solo io, non ho fatto solo io una grande partita, abbiamo fatto tutti insieme. Così questo è importante, nessuno non può andare avanti da solo, tutti insieme andiamo avanti. Voglio indicare il gol a qualcuno? A mia famiglia che è lontano, a mia mamma, a tutti, a miei genitori che non ho visto fino a due mesi ora e quando forse tornare a Natale porto il regalo là, va bene, a Grecia. Va bene, grazie. 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 Grazie.